buonasera a tutti amici amici di mister lo sport del blogger finalmente l'anticalcio di antonio conte è morto perché stiamo a commentare la meravigliosa vittoria del siviglia di lopeteghi non si può dico non si può e sono serio quindi non c'è sfottò vincere una coppa facendo tre tiri in porta in tutto l'arco di una partita un calcio di rigore un colpo di testa di godin e un tiro di lukaku nel secondo tempo a proposito grazie romelu il 35esimo gol e l'autogol più bel gol più bello nella porta sbagliata grazie romelu uno di noi ma a parte gli sfottò oggi è morto l'anticalcio di conte perché ha giocato solo il siviglia negli ultimi minuti l'inter ha fatto un po di forcing un po di un po di ha giocato a pollone ma per 70 minuti di partita scrivetemi nei commenti se non ho ragione cioè lasciamo stare lo sfottò sono serio c'è l'inter meritava secondo voi di vincere la partita facendo tre tiri nello specchio e un tiro in porta in tutto il secondo tempo a centrare il portiere con lukaku che ha colpito il portiere avversario cioè tre tiri in porta un calcio di rigore un colpo di testa e il tiro di lukaku questa è stata la partita dell'inter non è che il siviglia abbia fatto voi più ma almeno il siviglia ha giocato ha impostato si è visto un po di gioco l'inter palla lungo e pedalare quello l'anticalcio di conte non si può vincere in europa così non si può giocare in europa così e le italiane continuano a fare schifo perché il getafe aveva giocato meglio il bayern l'everkusen aveva creato qualcosina in più anche ultimamente aveva sofferto l'inter ed era passata con un gol da palla lunga e pedalare cioè il gioco di conte è un'immondizia e non si può vincere l'europa league la champions così vinci gli scudetti se magari ci riesci ma in campo internazionale non è quello il modo di giocare a pallone io non voglio sfottere l'inter voglio fare un ragionamento serio oggi è morto l'anticalcio perché il siviglia ha meritato il siviglia ha tenuto palla fatto possesso ha tirato in porta ha avuto qualche occasione se si è vista qualcosa in più è stato un meraviglioso primo tempo perché primo tempo è stato veramente uno spettacolo e vanno fatti complimenti sia al siviglia che anche all'inter che l'aveva ripresa ma alla fine il siviglia l'ha meritata perché ci ha creduto di più quello che è il difensore che ha fatto la rovesciata e poi lukaku ha fatto l'autogol ma il siviglia almeno tenuto più palla giocato si è visto qualche fraseggio si vede la mano dell'allenatore lopeteghi si vede il gioco del siviglia si vede il possesso palla si si vede si vede un bravo un bradipo un bradipo di gioco si vede un qualcosa nel siviglia nell'inter io vedo solo palla lunga lukaku e lautaro martinez e che dio ci aiuti cioè non si può vincere le coppie europee in questo modo magari in campionato si può anche fare vinci uno scudetto e sei contento come come potrebbe succedere ma in europa non si può giocare in quel modo sceno perché così le altre squadre in champions ti aprono in due infatti il bortmund li ha aperti in due il barcellona lo slavia praga è venuto a pareggiare a san siro cioè in europa non si può giocare palla lunga all'attaccante come si giocava 30 anni fa 80 anni fa cioè il gioco di lì di antonio conte è un gioco superato almeno a livello europeo parlo io parlo di europa e non italia però se giochi in quel modo sceno che poi l'inter ha fatto un buon un buon 20 minuti ma era tardi perché siviglia è calato ma ditemi se l'inter ha mai avuto il pallino nel gioco in mano nei primi 70 minuti qualcuno me lo scriva perché sennò io ho visto un'altra partita con siviglia che la controllava che giocava cioè hanno giocato con ucampos a mezzo servizio e ucampos ha fatto ammattire i difensori dell'inter suso che ha fatto uno schifo di partita aperta e chiusa parentesi però almeno ha fatto qualche dribbling qualche incursione ha provato a calciare cioè non puoi giocare palla lunga e pedalare in europa cioè noi godiamo alè siviglia alè per sfotterli ma non possiamo non 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 parlare seriamente perché va fatta una disamina seria e competente se si parla di calcio io il gioco di conte non l'ho mai visto se qualcuno me lo dice come l'inter di conte gioca meglio il milan di pioli ve lo posso dire col cuore in mano giochiamo meglio noi adesso non a novembre come quando succede l'inter nei derby che a novembre vincono tutto e poi non vincono niente messi vuoi andare a giocare in quella squadra guardali come giocano palla lunga e pedalare leo pensaci leo pensaci perché non è la squadra per te caro leo che non gioca a pallone perché ribadisco ribadisco stasera non si può giocare così non si può giocare così perché uno è contento sfotte li prenderà li prenderà in giro tutta l'estate ma se fai una disamina di calcio stasera il siviglia l'ha meritata perché il siviglia per 70 minuti ha tenuto il pallino in mano cioè l'inter si difendeva giocava e si è assegnato su una punizione e su un calcio di rigore non ha creato un'azione veramente non ha calciato in porta secondo me una parata del portiere del siviglia io non me la ricordo un miracolo del portiere del siviglia non me lo ricordo ha fatto un miracolo su sanchez che poi il difensore l'ha tolto dalla porta quello sia a fine partita ma prima per 70 minuti palla lunga a lukaku cioè non è quello il gioco di una squadra che vuole giocare e vincere in europa ragazzi cioè non mi venite a dire che l'inter ha giocato bene perché se no avete visto un'altra partita cioè marcheggiani parlava di uscite palla al piede io non le ho viste queste uscite palla al piede dove sono state queste uscite palla al piede dove le ha viste marcheggiani dove le ha viste queste uscite palla al piede facevano i rilanci lunghi per lukaku qualche sponda barella ha rischiato il rosso un paio di volte cioè non puoi giocare così io la vedo così penso di aver visto così la partita poi non so voi ditelo nei commenti perché mi interessa il vostro parere perché a parte lo sfottò e il gol della codura per il 35esimo gol di lukaku che ha sbagliato porta però io ho visto questa partita cioè il siviglia per 70 minuti ha tenuto il pallino in mano raga cioè non terminate a raccontare fregnacce cioè il siviglia la strameritata cioè l'inter è l'anticalcio a livello di gioco ma il gioco di conte io mai conte al milan ho sempre detto questo e non voglio l'anticalcio non voglio vedere palla lunga e pedalare io voglio vedere giocare a pallone sono per quel tipo di gioco perché per se ribadisco e vado a chiudere per 70 minuti e il siviglia ha tenuto in mano il pallino poi è calato si è stancato c'aveva c'aveva ucampos come mezza gamba quell'altro difensore centrale con la fasciatura quell'altro con la fasciatura al braccio cioè veramente hanno giocato con una squadra di ingerottati cioè non sono riusciti a fare se non so il possesso palla poi lo vado a vedere ma sarà sarà stato 60 40 60 30 cioè per 70 minuti cioè veramente il siviglia aveva il pallino in mano cioè aveva controllato giocava cioè si vedeva chi aveva la partita in mano su cioè noi godiamo ale ale si vignale e poi però dobbiamo fare una disamina cioè veramente veramente oggi è morto l'anticalcio perché veramente oggi l'anticalcio non meritava di vincere ve lo dico proprio col cuore in mano perché il gioco di conte è l'anticalcio cioè un gioco che si faceva 60 anni fa 40 anni fa palla lunga al centro avanti e ci pensa lui e facciamo gli inserimenti sulle sponte del centro avanti è un gioco che non si fa più vabbè che il tiki taka in crisi però il siviglia oggi veramente per me ha strameritato la finale e vi saluto dicendo ale gale ale si vignale se vi è piaciuto questo video mettete un like e iscriviti al canale di mister blogger valeriani ciao a tutti